Questa è la prima elettro hack che ha realizzato il complessivo per tinenze esterne sul pannello simulatore che c'è lì dietro. Allora, questo è il centralino dove sono contenuti i vari dispositivi che portano corretto a tutto l'impianto. Queste sono le scatole di derivazione dove vengono contenuti i cavi che si ramificano in ogni direzione per alimentare i vari dispositivi. Questo è il punto luce che viene alimentato dal box auto. Questi sono i due punti luce che vengono montati nel giardino. Questi sono i punti luce che vengono montati nel viaretto. Da questa scatola partono i comandi che comandano le luci del box auto e del viaretto del giardino. Allora, questa parte del centralino crea 12 volt per far funzionare il circuito del citofono. Questo è il circuito citofonico composto da posti interno, posti esterni ed elettrosse adatture. Questo è il sensore da chiuscolare che lavora con questa tracchiatura che monta nel centralino. Questo è il reteborizzatore che attraverso questo comando accende e spegne le luci. Questo è l'interruttore orario che lavora assieme al crepuscolare e accende le luci del giardino.